Il MES che cos'è? È un'altra organizzazione criminale del tutto occulta. Il MES è un crimine. Hanno trovato un altro sistema per rubare 700 miliardi di euro ai paesi europei e 125 agli italiani ad amministrarsene un po' come gli pare. Premetto che gli italiani hanno già pagato nel discorso circa 9 miliardi di euro. Per salvare i casi integrati bastavano circa 1,5 miliardi e invece adesso abbiamo versato una tranche di 40 miliardi a questo pseudo fondo. Mi sono reso conto che mettendo questo video su YouTube, 1.270.000 persone se lo sono andate a vedere. Dopodiché si sono andate a vedere che cos'è il Club Builder, che cos'è il MES e hanno cominciato una rivoluzione sul web. Che io dico se noi facessimo tutti quanti su larga scala, approfittando magari proprio di movimenti come quello 5 Stelle che ha la possibilità di stare in Parlamento. Perché devo andare io con una tenda fuori Mediaset, che sono un normale cittadino, e non lo fate voi che state in Parlamento? Io penso che è una buona idea. Il fatto è che hai una milione e un po' di persone che hanno guardato i video e sono aware di questo, solo per farò vedere come successevo che hai avuto in quanto hai avuto.